Oggi parliamo di truffe e business online, come scegliere attentamente quelli giusti e come riconoscere quelli sbagliati, come non farsi fregare e a fine video parleremo anche di un caso che mi è successo in questi giorni. Quindi come al solito sono Michele, mi occupo di imprenditoria e digital marketing e se non mi conosci beh guardati i miei video nel canale e lasciami dei commenti che faranno sapere cosa ne pensi e iscriviti così non ti perdi niente. Quindi oggi parliamo proprio di truffe, business online e quant'altro. Come riconoscere un progetto valido? Beh innanzitutto una verifica sull'azienda che lo sta proponendo e sullo staff, le persone che ci sono all'interno dell'azienda è fondamentale. Quindi se già vedi che la sede legale dell'azienda è in paesi che dici boh potrebbe essere strano perché comunque sono paesi dove magari con legislazioni vaghe, sistemi giudiziari un po' strani o magari paradisi fiscali o cose così potrebbe essere già un sintomo, potrebbe non sempre però potrebbe essere un sintomo di qualcosa da cui stare attenti. Quindi paesi come Venezuela, Dubai, Malta, talvolta anche il Portogallo so che alcuni non lo usano, Isole Vare, Seychelles e quant'altro, il Panama, paesi in generale di Sud America ma anche paesi asiatici talvolta vengono utilizzati per prestanome e cose così quindi comunque staci attento. E poi le persone perché spesso o hai una persona che te lo sta promuovendo perché ci guadagna e ti racconta magari delle cose che gli sono state raccontate che non sono poi verificate quindi tu vai a verificarle per esempio questa azienda ha fatturato X, questa azienda ha queste persone importanti all'interno, questa azienda fa questo e quest'altro, verifica tutto quanto. E se non hai modo di verificarlo allora staci attento perché potrebbe essere proprio qualcosa che non va. Non farti abbindolare da promesse assurde ovviamente perché se hai un minimo di cognizione di causa e ti viene raccontato che hai il profitto garantito per esempio sull'investimento, guadagnerai il 10% a settimana, il 30% al mese, il 200% all'anno, cose così ma anche meno nel senso comunque sono cifre assurde fondamentalmente perché per come funziona il mercato sì allora puoi guadagnare cose del genere ovviamente facendo il lavoro fatto bene, lavorando sull'impresa, lavorando seriamente puoi fare tanti tanti soldi ma non lo fai passivamente, non lo fai regalando soldi a qualcun altro e non lo fai in maniera garantita perché se si tratta di investimenti non c'è mai niente di garantito, questo è fondamentale saperlo. Poi controllo le persone comunque che ci sono all'interno dell'azienda quindi se vedi dei nomi di persone che magari poi sono già state coinvolte in altre gruppe, in altre cose, vabbè lì sai che devi scappare ovviamente. E cerca di capire cosa poi realmente porta a te perché è ok capire che il progetto non è una truffa ma per te ha senso entrare in questo progetto, imparerai qualcosa di utile, ti formerai bene, avrai un guadagno sensato oppure prendere quei soldi e investirli in qualcos'altro sarebbe meglio. Cerca di fare tutti questi ragionamenti qua in modo tale che capisci se è un progetto che può fare per te. Poi io ti dico stare attento alle criptovalute, non che siano un problema le criptovalute, anzi sono una grandissima opportunità, persone ci hanno fatto tanti soldi e ci si possono ancora fare tanti soldi facendo trading e tu quant'altro ma bisogna conoscere l'argomento. Persone che arrivano e ti dicono questa è la criptovaluta migliore del mondo e bla 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 investi qui che guadagnerai le soldi e garantito che oggi vale 0,0000001 euro ma tra 6 mesi varrà 0,0000001 euro e quindi avrà un per 2.000 e farai fare un sacco di soldi. Non c'è niente di garantito quindi come fai a prevedere cose del genere è impossibile poi ci puoi fare soldi col trading anche a volte rischiando queste cose qui ma devi essere conscio che è un rischio che potenzialmente non ci fa niente. Molte ICO quindi inizia coin offer le lanci delle criptovalute erano reali truffe fondamentalmente persone che buttavano dentro soldi per investire in questa cripto e poi o comunque lanciavano la cripto però il sottostante reale non c'era cioè non è che c'è qualcosa che ti dice che quella cripto vale tot ma è dato da una legge di mercato. E ciò se il progetto è serio e reale come bitcoin, ethereum, comunque i più blasonati ma tanti altri progetti allora può avere un senso ma sono state migliaia veramente le truffe che ci sono state e ti faccio proprio su questo ti faccio vedere cosa è successo sul mio canale youtube. Infatti qualche giorno fa un mio video è stato bombardato di fondamentalmente di bot russi tipo qualcosa del genere che hanno iniziato a commentarmi il video era cosa farei io se partissi da zero oggi con il mio business online io vabbè adesso ho attivato un filtro qua ho ancora in attesa di revisione una serie di commenti vedi salute un buon video non è visibile con lo sguardo armato che capisci hai rimosso il portafoglio personale di criptovaluta prisma senti sono nuovo di me stesso in queste robe assurde mi è piaciuto molto anche il video potrei puoi guadagnare con azioni ma anche con comprovate affidabili puoi fare soldi facendo il trading in borsa entrambi sono molto rischiosi hai sentito la promettente criptovaluta prisma è con grande piacere che ho investito nella criptovaluta prisma prisma è il migliore criptovaluta decentralizzata sulla sua blockchain con molti vantaggi entrate dal 4 al 24% al mese questa cosa è assurda in diverse strutture bla 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 giovedì stavo ricevendo praticamente un commento ogni 30 secondi alle 7 del mattino per fortuna me ne sono accorto abbastanza in fretta quindi non ho iniziato a cancellarmi avevo già un centinaio e ho anche attivato un filtro sul canale in modo tale che appunto questi qua ad esempio non sono pubblici adesso li blocco in modo tale che che cioè non nel senso mi dà fastidio proprio come cosa come vedi sono un account in cirillico eccetera perché fanno questa cosa qui perché probabilmente c'è qualche discorso di indicizzazione dei motori di ricerca o comunque che loro sparano tutti questi commenti su migliaia e migliaia di video qualcuno va a cercarsi su google questa criptovaluta magari ci investe o comunque il fatto che la ricerca la porta più su in trending eccetera eccetera però va a far culo nel senso io tra l'altro questo video ovviamente l'ho fatto anche per vedere se sotto questo video arriveranno altri bot perché adesso ho messo di nuovo business online nel titolo e l'acceito proprio la criptovaluta quindi vediamo cosa succede io stavolta disattivo il filtro e lascio andare cioè approvo tutti i commenti sotto questo video se li trovate insultateli ecco e questi invece li andiamo a togliere perché non va bene perché è chiaramente spam e mi sta proprio fastidio ecco vedi qua tutte le persone che ho bloccato queste parole criptovaluta pizm prism quello che è e queste sono tutte le persone che ho bloccato dal canale che erano tutti i bot vari quindi lol e niente così capita quindi ovviamente non investire in questa criptovaluta perché chiaramente è uno scam scam viene spesso usato per identificare le truffe online ecco se vuoi invece lavorare online e cerchi qualche progetto serio beh c'è il progetto digital builders che ho avviato io con altre persone in cui insegnavo alle persone a lavorare online quindi a erogare un servizio vendere online tutte queste cose se vuoi delle maggiori informazioni trovi il link in descrizione per il resto noi ci vediamo al prossimo video buon business 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 buon business